benvenuti nel mio canale io sono anna e in questo video ti svelerò una breve anticipazioni sua serie family non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere il prossimi video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento a ti ha inviato un messaggio di congratulazioni ad aslan quando ha visto il testo il tuo regalo è fuori nel messaggio aslan è uscito immediatamente mentre eco e jagmur chiacchieravano una motocicletta si è avvicinata a loro l'uomo sulla motocicletta ha estratto la pistola e ha sparato a eco aslan e gli altri si radunarono immediatamente attorno a eco aslan scopre chi è l'aggressore ora è il momento della vendetta tuttavia devin chiede ad aslan di promettere di non trasformare questo in una vendetta il leone è uscito dalla sua gabbia aslan trova il nascondiglio di ati aslan e ati si trovano faccia a faccia aslan trova il nascondiglio di ati aslan che sta cercando di scoprire chi ha sparato a eco la prima notte di nozze entra in elicottero nella casa di ati dove si nasconde e che pensa sia impossibile da trovare nel nuovo episodio mentre la scena in cui aslan e ati si confrontano aumenta l'eccitazione l'apparizione della persona che ha sparato a eco nella serie è attesa con impazienza un altro episodio aumenterà la rabbia di aslan nei confronti di ati silan la sorella minore di aslan dopo una lite con la madre verrà trovata riversa sul pavimento subito verrà soccorsa da aslan e devin qui il protagonista chiederà di restare solo con la sorella poco dopo scoprirà le pasticche e le chiederà la provenienza lei dirà che gliele ha date attila uno dei più cari amici del protagonista quest'ultimo la sera andrà a casa sua e lo ucciderà a mani nude aslan scopre chi è l'aggressore ora è il momento della vendetta tuttavia devin chiede ad aslan di promettere di non trasformare questo in una vendetta il leone è uscito dalla sua gabbia aslan ha picchiato a morte ati grazie a tutti